Vai quando vuoi! Cosa c'è? C'è un profilo un po' strano per fare il rovescio, fai un passaggio basso? Sì, quando dai motore sale, vero? Eh? Scendi! Sì! Ho visto! E dall'altra parte come vira? Prova a fare un otto! Sì! Sì! Ti tende a chiudere, vero? Sì! Perché c'è la coppia del motore! Adesso fai un passaggio a manetta! Un pezzo normale! Sì! 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 Sì!